a che punto è la notte william shakespeare lo chiede banco dentro al macbeth rende perfettamente l'idea questo semplice e potentissimo verso di una nostra condizione esistenziale tipica quando siamo come sospesi sentiamo di essere all'interno di un processo di un processo che va a concludersi che ci lascia incerti perché non è il giorno il momento dell'azione ma è la notte il momento del pensiero del turbamento della riflessione in cui è come se la vita fosse in attesa di qualcosa e quindi ci chiediamo quando arriverà quel momento nel bene e nel male in effetti questa espressione è stata ripresa mille volte a sua volta ne riprende un'altra perché riprende un verso dal libro di isaia nella chiaramente nella bibbia dove chiede sentinella sentinella quanto resta della notte sempre questa idea di qualcosa che sta andando avanti e finirà ma napoli milionaria di de filippo adapassanutata mi scuso per l'orida pronuncia naturalmente ma quel che mi piacerebbe avere giusta ma non è giusta pazienza imparerò un giorno allora questa idea di un qualcosa di teso di forte di che mi coinvolge che però deve concludersi e anche frutte lo lucentini due autori molto amati a torino hanno scritto un libro intitolandolo proprio a che punto è la notte quindi è questo noi passiamo una parte della nostra vita in un'attesa di qualcosa nella sensazione che non sia questo il momento ma qualcosa che verrà questo chiaramente come sempre ripetiamo non ci deve impedire di agire adesso però è vero che tante volte siamo lì e ci chiediamo a che punto è la notte